a tutti ragazzi da Mario Inter ragazzi la festeggiamo sta qualificazione Champions sì o no vi aspetto tutti quanti in live a partire dall'ora 21.30 qui sul mio canale ragazzi Diego Ligorio come sempre e carta e curva nord ragazzi stasera c'è da divertirsi anche perché oggi è un giorno molto importante per noi interisti ne parliamo tutti quanti insieme l'altra volta eravamo 700 persone non dico che dobbiamo arrivare a 700 però cavolo il vero interista oggi passa festeggia insieme a noi un saluto a tutti ragazzi da Mario Inter vi aspetto questa sera 21.30 ciao ragazzi e forza intro tutte le domande che volete oggi rispondiamo a tutti oggi proprio una live a cogliona proprio divertimento allo stato puro ciao